Previsioni meteo per mercoledì 14 novembre. Al nord insistono nebbie e nubi basse in pianura, localmente anche persistenti di giorno. Qualche nube in Liguria, sole su Alpi e Prealpi. Al centro bel tempo prevalente, salvo foschie, nubi basse in sollevamento al mattino lungo i litorali adriatici e nelle valli. Al sud generali condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, di notte e al primo mattino foschie nelle valli. Venti moderati settentrionali, mari da mossi e a poco mossi. Temperature stazionarie.